The Show Siamo a Milano, nel parcheggio di una stazione ferroviaria Alessandro, dopo essere stato spruzzato con del vino, finge di essere ubriaco e di non riuscire ad aprire l'auto I passanti lo aiuteranno a salire in auto? Gli permetteranno di mettersi alla guida? E tu, cosa faresti? Scusa, non è che mi apriresti la macchina che non sto tanto bene? Se mi apri un secondo la macchina, che ho bevuto un po' e non riesco ad aprirla Eh, devo andare per forza a casa No, ti sei pazzo Ma veramente abito qua, faranno 5 minuti, ti prego Scusi, non è che potrebbe darmi una mano ad aprire la macchina? Quello che ho bevuto un po' non riesco ad aprirla Grazie Ecco, grazie mille Prego Grazie Non riesco ad aprire la macchina Non è male? Sì Allora, stai a sentire Parti a sedere un po' Non stai in condizioni di guidare, mi senti? Sì Stai un'ora Ti vado a prendere un po' d'acqua Non ti vuole da qua Siedi la terra Io devo andare a casa, ragazzi Ormai non ci puoi andare perché non stai in condizioni Ma sono qua, ci metto, vado piano Vai a piedi e lascia la macchina qua No, a piedi io non ce la faccio Solo a pirla perché cazzo Se te la apro e poi entri e se succede qualcosa sei pazzo Ma io devo andare a casa, non posso stare qua, stasera devo lavorare Sei pazzo Scusa Non è che per favore mi riusciressi a aprire la macchina, che non riesco Eh? Insisto, attento, vado pianissimo Grazie, azzio Scusa, non è che mi apri la macchina, per favore, che non riesco Non va? No, è che non lo so, ho bevuto un po' e non riesco ad aprirla Ecco, che te la faccio No, grazie mille Ma non guidare, però Ma vado piano, vado piano Mi puoi per favore aprire la macchina, che non riesco, non sto bene Grazie Tu non puoi portarmi a casa? Cioè, mi sembra pericolosissimo, ma ti posso, sì Scusa, mi sembra per favore, che non riesco a aprire la macchina, che non ci riesco ho avuto un po' ma ce l'ha la dore fare si si grazie capito? perché devo andare a casa io no no è preso stai nel mezzo per arrivarsi non guidare capito? va bene grazie ascoltami grazie scusa non è che mi puoi farmi se mi... mi apriamo? si grazie che ho bevuto un po' si ma devo andare a casa ma come fai mettiti in macchina? devo andare adesso avete ragione ma io devo andare a casa che stasera devo lavorare non devo mettermi a posto se no rimango freddo si ma tu adesso? grazie figurati devi guidarmi dai no? eh ma devo fare due chilometri ma ce la faccio sai che non devi guidare no? io ti ascolto grazie io la macchina te la chiudo comunque tu non entri in macchina ma vuoi un caffè? no si va dici che mi aiuta? allora innanzitutto stai tranquillo io ti porto un caffè amaro va bene va benissimo non ti puoi siedere un frattemino? si mi sedo qua siediti qua e affoggiati qua ok vieni dai tranquillo ecco affoggiati con la testa ascolta tu mi le chiavi più anche quelli che te te le tasca si fermati un po' in macchina dai mia nottia che mi gira tutto cazzo devo guidare eh ma devo andare a casa devo guidare sennò provo al mio angio me lo prendo io il caffè se mi accompagnate cioè non ce la faccio io grazie mille scusate tu respira un po' tu cosa avresti fatto? a. gli avrei impedito di salire in auto b. lo avrei aiutato a salire in auto me l'avrei impedito di mettersi alla guida c. lo avrei ignorato gli ubriachi sono pericolosi d. altro raccontaci cosa scrivi la tua risposta nei commenti e lascia un like a 100.000 mi piace uscirà il prossimo episodio di... tu cosa faresti? ALE oh eh porca puttana il cloruretano che cazzo hai fatto hai messo il cloruro di sodio nel diuretano porca puttana